Buongiorno a tutti, grazie per aver invitato Assi Immobiliare a partecipare a questa apertura dei lavori e a confrontarci con voi. Ho notato già che la vostra Assemblea parte con il piede giusto. Ho già segnato tre punti importanti, il primo del Presidente Righi che ha espresso in maniera esplicita è il momento di fare. È molto interessante, così come l'affermazione fatta dal Presidente di un mondo che ha visto finora le agenti immobiliari solo come semplice apri porta. Non è così. Condivido perfettamente questo. Bisogna avere una nuova visione. La nuova visione è quella di far diventare la vostra professione perché è forse il tassello più importante nel mercato immobiliare perché siete le persone che tastano in ogni momento l'andamento del mercato immobiliare in real time. Percepite per primi la crisi, percepite per primi la ripresa e percepite per primi l'andamento dei lavori. Questo è fondamentale. Noi come Asso Immobiliare siamo pronti a collaborare su tutti i fronti. Rappresentiamo la filiera del real estate, un po' a 360 gradi insieme ai nostri associati. Che cosa speriamo che possa avvenire nel prossimo futuro, al più breve possibile? Noi abbiamo in questo momento iniziato una fase di confronto con tutto quello che è le linee guida e gli standard internazionali. Non perché gli standard internazionali siano fantastici, devono comunque essere tutte classate secondo le legislazioni nazionali e quindi italiane, però ci permetteranno di dialogare con l'Europa e con il mondo attraverso un'unica lingua. Oggi abbiamo bisogno forse in primis di questo, di avere un unico veicolo che ci faccia dialogare con il mondo. Questo perché? Perché oltre a parlare la stessa lingua con gli investitori internazionali, con gli investitori istituzionali, ci permetterà di dare quella foto che noi abbiamo ma non riusciamo mai a trasmettere, di eticità, di professionalità, tantissima professionalità abbiamo e di trasparenza. Queste nuove regole, questo nuovo modo di fare che possiamo comunque tutti insieme, mettendoci intorno a un tavolo, declinare, può essere un elemento vincente che fa capire una volta per tutte al mondo, non solo all'Italia, che stiamo cambiando in meglio, in molto meglio. Quindi vi ringrazio, noi siamo disponibilissimi a collaborare con voi, la nostra partecipazione qui è proprio un segnale di questo. Complimenti perché la platea siete tantissimi. Complimenti a tutti voi e buon proseguimento dei lavori.